Lo spettro della bretella Ovest torna a infestare il territorio di San Giorgio in Bosco, ma un progetto che in molti ritengono calato dall'alto in un momento decisamente elettorale causa una levata di scudi. Secondo me questa bretella non può partire dall'alto ed essere calata ai cittadini, deve partire ed essere concertata da cittadini e da imprese. Una tempistica che è veramente sospetta, arriva a un mese dal voto, arriva da dei sindaci che sono a fine mandato, che in molti casi non hanno neppure una maggioranza compatta su questi temi e sia soltanto un modo per mettersi in vista, per rilanciare dei temi che purtroppo sono solo temi elettorali. Le nostre imprese hanno bisogno di risposte che devono essere concrete e quindi io credo ci sia la necessità di trattare questo tema con la serietà dovuta dopo il voto, con i nuovi sindaci e i nuovi consigli comunali eletti. Il timore è che la bretella ovest vada a intaccare un'area, quella ridosso del Brenta, di grande pregio naturalistico e di enorme importanza per l'ambiente dell'intera pedemontana. Tanto che sono in molti a chiedere che questo tema venga messo al primo posto nella valutazione di un qualsiasi intervento viario in zona. Passerebbe in una zona prossima al fiume Brenta che è una zona di particolare pregio ambientale, una zona che merita tutelata, che merita salvaguardata da eventuali nuove strade, nuovi percorsi viari. L'ambiente prima di tutto, il dialogo con i cittadini, il dialogo con le imprese. Poi assolutamente una risposta ai nostri imprenditori dobbiamo darla, ma non possiamo partire dal fine senza trascurare poi quelli che sono i problemi che ricadranno nella nostra economia e nel nostro territorio.